Si è appena cucito la stella del decimo titolo nel campionato italiano rally e Paolo Andreucci torna al ciocchetto rally event con la Peugeot 208 T16 R5 affiancato alle note da Anna Andreussi. Ucci sarà al via per festeggiare l'importante traguardo sulle strade di casa e perché no anche per dare la caccia al quarto successo sulle speciali all'interno della tenuta che farebbe di lui il pilota più vincente nella gara natalizia per Antonomasia. Sempre che la pattuglia di agueriti specialisti del ciocchetto sia d'accordo e ogni riferimento ai vari Ciavarella, Michelini, Ciuffi e Panzani non è puramente casuale. Si preannuncia dunque una corsa ad alto tasso di agonismo ma indubbiamente di fascino tutto particolare questo ciocchetto che a distanza di 26 anni dalla sua nascita voluta dall'indimenticabile Icio Perissinot resta sempre attraente con un percorso breve ma estremamente tecnico e impegnativo concentrato nello splendido scenario del ciocco. La partenza della prima tappa avverrà sabato 16 dicembre alle 15 con arrivo alle 18.55 dopo tre passaggi sulle prove Colle e Gellaghetto. La seconda frazione scatterà domenica mattina di Buonora alle 7.30 con arrivo alle 11.15 dopo aver affrontato in questo caso tre volte lo stadio e la Noi TV. Il tutto sarà preceduto venerdì a partire dalle 17 dall'apertura delle verifiche sportive e tecniche che proseguiranno anche nella mattinata di sabato in contemporanea con le ricognizioni del percorso. Infine ricordiamo si articolerà nel nuovo format Master Ciocchetto Top nel Master Ciocchetto Challenger lo scoppiettante finale del 26esimo ciocchetto in programma nel primo pomeriggio di domenica 17 dicembre. Protagonisti annunciati del Master Top tre equipaggi di piloti prioritari FIA e AC Sport al volante di vetture storiche e o moderne e i primi cinque equipaggi classificati.